L'alternanza scuola-lavoro va rivista, bisogna tutelare gli studenti e la loro vita. Lo scrive stamane in un tweet il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara facendo riferimento allo stagista diciottenne morto in Veneto a settembre alla cui famiglia non è stato assegnato alcun indennizzo dall'Inail. Stiamo lavorando per predisporre una normativa più giusta e avanzata insieme al ministro del lavoro Maria Elvira Calderone annuncia nel suo messaggio Valditara.